Torniamo a parlare di libri anche questa settimana con Tra le righe incontro con l'autore, tornata a trovarci a Padre Pio TV, Stefania Perna, che accogliamo davvero con grande piacere. Ben trovata, ciao Stefania. Grazie, grazie per l'invito. Allora, ci ritroviamo a distanza di qualche settimana per presentare proprio un libro, il tuo ultimo libro pubblicato, edizioni Segno, davvero di qualche tempo fa, Spunti quotidiani in cerca d'autore, con una bella immagine in copertina, che è la tua città, che è Bari, è il lungomare di Bari. Sì, sì, sì. Questa è stata scattata addirittura da tua figlia. È vero. Diciamo che davvero avete giocato in casa. Sì, perché appunto tutti, veramente tutte e tre i figli si erano impegnati a fare foto, eccetera, poi per motivi anche tecnici, perché la casa editrice sceglie la foto che ha dei pics, delle cose, insomma ci sono da, e quindi è stata scelta questa, che infatti è molto carina. Poi ho anche abito vicino a lungomare, quindi mi si trova spesso. Benissimo, quindi davvero una foto che ha ispirato anche, immagino, la scrittura di questo libro. E raccontaci qual è il filo conduttore, il filo rosso di questo tuo ultimo lavoro. Beh, il filo rosso forse è proprio nel titolo, perché è un titolo un po' pirandelliano, perché sei personaggi in cerca d'autore, quindi sono gli spunti in modo molto molto semplice. Perché anche qui, cioè il messaggio che voglio lasciare è che appunto ci sono tante cose quotidiane, anche oggetti, anche cose che vediamo, che rimandano a un autore, che poi è Dio, insomma. Quindi vuole essere un modo di guardare anche le cose concrete. Per esempio ci sono delle preghiere che hanno a che fare con le stalattiti, le stalagmiti, cioè addirittura delle cose della natura, della vita di tutti i giorni, che possono rimandarci all'autore, no? Questo è un po'... È proprio così. Sì, infatti utilizzi anche appunto argomenti quotidiani, argomenti e termini che ritroviamo nel nostro vivere di oggi. Ad esempio il cammino, l'aereo, il viaggio, il pellegrino, il bivio, gli scogli, il cielo. Immagini legate alla natura, immagini legate al viaggio che spesso davvero ritornano nei tuoi scritti. Sì, sì, e proprio perché secondo me parlare di viaggio è una metafora per parlare della vita, perché la vita è come un viaggio, siamo in viaggio, diciamo tra due poli, la nascita e la morte, no? È un viaggio. Quindi con tutto quello che comporta un viaggio, quindi non avere mai una cosa fissa, no? Sapere che sei sempre in cammino, perché il viaggio è un po' così, e quindi attraversare la vita, questo che lui diceva, Santa Caterina forse, diceva la vita è come un ponte, attraversala ma non fissarci la tua dimora, che penso che sia un'immagine anche molto molto bella, no? Molto efficace, è vero. Ecco, per dire in due parole quello che poi è una riflessione profonda e teologica, diciamo così, no? Mi hai consigliato una poesia, uno scritto, pagina 137, La Margherita, che hanno apprezzato molto anche nelle presentazioni, mi diceva. Sì, più che altro quello, sì, ha colpito perché appunto è una poesia molto molto semplice, potremmo dire quasi francescana come stile, però nella quale appunto si parla di come anche in un fiore si può vedere un insegnamento per la propria vita. Magari se la leggi si può spiegare. Spesso, primo disegno di bambini, perché è il cuore d'oro, come solo i piccoli sanno averlo, è tutto quel giallo splendente, in modo inconsapevole ricorda loro i sorrisi ricevuti da genitori e parenti. Sì, questo è un discorso che chiaramente non è mio, questa è proprio la psicologia che lo dice, perché infatti quando gli psicologi intervengono per esempio sui casi di abuso, i bambini traumatizzati eccetera, la prima cosa che analizzano sono i disegni, perché il giallo oro e quindi anche proprio il disegno dei fiori dimostra un bambino sereno che ha ricevuto amore. Quindi questo. Questo, ecco. Perché solo se amati possiamo vivere, verità che crescendo spesso dimentichiamo. Tutto è prestazione, merito, persino l'amore o la vocazione. Solo nel tuo regno si può tornare bambini, semplici e fiduciosi, che ci sia chi li segue e li ama. Donami la vocazione della margherita, piccolo fiore tra miliardi di fiori. Che però non sa di essere così piccolo e neanche se ne angoscia. Tu te ne prendi cura e le dai una veste gialla, più splendente degli abiti dei re. Donami la vocazione della margherita, che è fragile di breve vita e forse finirà schiacciata da un chicco di grandine o da un piede umano. Ma intanto vive il suo oggi, ha un cuore d'oro e rallegra chi la guarda. Forse ripete anche lei, il nostro Dio è nei cieli, tutto quello che vuole egli lo compie e sembra sorridere come se la sua gioia fosse tutta nel sorriso del sole. Molto bella da dire. Sì, cioè molto semplice, però ecco, è questo il messaggio che vuol dare il libro, cioè appunto il discorso di vivere la vita con questo sguardo verso Dio, no? Con questo sguardo fiducioso come quello della margherita, facendo del bene. Insomma questo lo si ritrova in tutte le poesie in modo un po' diverso, però è questo un po' lo stile o il contenuto che voglio. Esatto, e poi a seguire c'è un brano degli scritti di Don Nivo Barsotti e altri tuoi ispiratori, potremmo dire. Ecco, è uno schema che davvero ritroviamo più o meno simile anche ad altri tuoi libri, quindi c'è uno scritto, un pensiero e una citazione. È uno schema che funziona, che cattura il lettore, hai notato questo? Ti voglio dire, dai feedback che mi arrivano sì, perché poi ognuno si ritrova magari maggiormente in un autore, maggiormente in un altro. Poi questo mi ha permesso di fare anche un discorso, io dico eco-cattolico, non ecumenico, ma eco-cattolico. Nel senso che, cioè in questi libri magari si sono ritrovati persone del gruppo dei Focolarini, perché cito Chiara Lubico, piuttosto del gruppo di Cielo, perché c'è spesso anche Giussani, oppure dei Francescani, perché c'è San Francesco, Barsotti. Cioè è bello anche vedere che nella Chiesa ci sono veramente degli argomenti talmente comuni che è, appunto, eco-cattolico. Eco-cattolico. Me l'hanno detto, è una definizione che ho preso. C'è anche un'altra poesia intitolata Tempi supplementari, in cui davvero fai, come dire, utilizzi questa... L'immagine del calcio. Se posso dirla tutta, tu dicevi prima che ho giocato in casa, perché la foto della copertina è di mia figlia. Ah, ecco. Ecco, però anche I tempi supplementari è un brano che io ho scritto, perché tante volte cerco di vedere qualche partita, perché io ho due figli maschi e il marito, quindi le partite ce ne sono parecchie. E Tonesianete mi annoio, vedo le partite, e allora una volta, ecco, mi è venuto da riflettere in modo più profondo, e ho scritto quella che si ispira, appunto, alle partite. Ecco, vedi, quindi davvero ancora una volta il quotidiano trova ispirazione. A volte somiglia la nostra vita ad una partita di calcio, bene e male come due squadre, si contendono nel campo, del mondo e del nostro cuore. Nella tribuna d'onore è un ospite eccezionale, che segue compassione e compassione, fai il tifo per noi, lanciando in ogni modo parole di incoraggiamento, per la squadra che porta il suo nome. La tua parola fu già e letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome. E ad ogni tiro sbagliato, sospirando, ripete, è un vero peccato. Peccare significa infatti sbagliare bersaglio, mirare verso un punto morto. Ed ogni vittoria sul male esulta nel suo e nel nostro spirito. Quanto più rinnegherai te stesso, tanto più progredirai, diceva un santo. I tuoi santi, come atleti, ben preparati per fare azioni risolutive e determinanti, quelle che incoronano vincitori, e di una corona non corruttibile. La vittoria finale conquistata sempre, solo alla fine, solo da tre ti stanchi. E poi, un po' più lunga delle altre, insomma, poi prosegue. Ma che sciocca richiesta ogni giorno, tu mi dai tempi supplementari, quelli della tua misericordia e scendi in campo accanto a me. Davvero molto bello. Eh sì, cioè, ecco appunto, questa è l'idea, trovare degli spunti quotidiani nelle cose, vedere la partita, vedere la tramontana, vedere, no? Tutti questi spunti, anche in questo caso, come l'altro libro che abbiamo presentato qualche settimana fa, si può anche andare nelle pagine conclusive dove c'è l'indice, lasciarsi ispirare da un tema, da una parola e magari così leggere. Sì, anche perché ognuno di noi magari si lascia colpire chi più da un paesaggio, chi più da una cosa, no? E quindi, sì, i titoli vogliono essere quelli, piccoli spunti. Ecco, c'è anche una poesia intitolata Il Palloncino e poi a margine gli scritti del Cardinale Biffi, quindi davvero hai colto in tanti... Sì, quella, sì, 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 perché insomma a me piace molto leggere, quindi, insomma, francamente ho tanti riferimenti. Però, ripeto, non è un fatto di cosa culturale, di sfoggio, no? Mettere là tanti autori, no, no, no. È proprio la bellezza di vedere che appunto anche da gruppi diversi, da spiritualità diverse si arriva sempre, diciamo, secondo me c'è un messaggio che unifica tutti. Esatto, è proprio così. Bene, allora consigliamo anche questo libro ai nostri telespettatori, Spunti quotidiani in cerca d'autore, firmato da Stefania Perna, che ringraziamo nuovamente per essere stata qui con noi, per essere venuta a presentarci il suo libro. Grazie, buona scrittura. E al prossimo libro, perché grazie.